Tre lavori di ricerca e di ricostruzione per raccontare un capitolo buio della storia italiana, tre chiavi di accesso e di interpretazione per conoscere il dramma dell'esodo Giuliano Dalmata. Sono i volumi presentati durante l'incontro esodo-eso di ricerca, letteratura e comunicazione organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, dall'Istituto per la Storia della Resistenza e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte nell'ambito delle iniziative del Giorno del Ricordo. Furono 250.000 gli italiani che sul finire degli anni 40 vennero costretti a lasciare l'Istria e la Dalmazia occupate dalle truppe jugoslave e cercare accoglienza in un'Italia che, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non sempre seppe accoglieri con la comprensione e il sostegno dovuti. In 10.000 arrivarono a Torino in una città stremata dalla guerra che però non si tirò indietro e accolse gli esuli, anche se con difficoltà e sacrificio per tutti. Torino, come tutte le altre città, aveva subito i danni della guerra e quindi trovare un luogo che accogliesse questi 10.000 che cercavano, un luogo nel quale ricostruire la propria famiglia e inevitabilmente gli spazi a disposizione erano vecchie fabbriche di smesse, caserme. Siamo stati accolti nel modo con il quale potevano essere accolti in quel momento così difficile della storia del nostro paese. All'esperienza dei profughi che arrivarono a Torino e in altre città d'Italia e a quella pagina di storia troppo a lungo dimenticata, è dedicato una narrazione a lungo mancata, studio a più voci curato da Riccardo Marchis, che ricostruisce e rilegge l'esodo Giuliano Dalmata alla luce delle migrazioni del nuovo millennio, cercando somiglianze e differenze di un fenomeno sempre attuale. Nella raccolta Allo Spiraglio, la scrittrice polense Nelida Milani torna a narrare l'istria dei superstiti, delle serande abbassate e delle finestre chiuse per sempre, l'istria tra confusione e smarrimento, che non rinuncia però alla convivenza e alla moltiplicità di lingue e culture. Anima in transito è invece una storia d'amore nella Torino del dopoguerra, che affronta il tema della migrazione e dell'integrazione con un linguaggio spontaneo e diretto della graphic novel del romanzo grafico, che sempre più si sta imponendo nel mondo della letteratura per la semplicità e l'incisività del suo messaggio. Il nostro scopo è evidentemente didattico, si rivolge ai giovani attraverso un linguaggio che loro capiscono, senza annoiarli, senza disturbarli dal punto di vista proprio visivo. Se riuscissimo un giorno a trasferire tutto questo lavoro fatto da giovani disegnatori, tra l'altro, in strumenti didattici, non è poi così difficile, credo che potremmo dare una bella mano d'aiuto a inserire l'umanesimo in una società che se lo sta dimenticando. Anima in transito è stato pubblicato online ed è disponibile sul sito internet dell'Accademia Maggiora.